Se pensi ad un piano cucina nel tuo colore preferito, se lo pensi senza aloni, tagli e graffi, facile da pulire e resistente alle macchie, stai pensando a Santa Margherita. Piani per cucine e per bagni, in agglomerato di Quarzo. Buon pomeriggio e ben ritrovati con la seconda puntata di Terzo Tempo. Ieri i ragazzi del Valpo si sono giudicati la vittoria, una vittoria importante, anche perché è arrivata con poco sacrificio ma con tanta forza. Di questo parleremo oggi e lo faremo insieme al nostro commentatore d'eccezione Giordano Massalungo. Buon pomeriggio, ciao Alessandra, benvenuta. Due parole sulla partita della Santa Margherita di ieri. È stata una vittoria molto importante per noi. Abbiamo trovato una squadra molto ostica. Ci hanno detto alla fine della partita che il loro campo era due anni e mezzo che non veniva violato da una squadra avversaria, ancorché in un campionato di una serie inferiore, perché sono stati promossi l'anno scorso. Un risultato che letto così sembrerebbe quasi poco. In realtà noi sappiamo che questa vittoria vale doppio. Sì, vale doppio, nel senso che la nostra squadra viene da due domeniche consecutive che l'hanno vista soccombere su due campi ancorché molto importanti. Di poco, magari all'ultimo momento non siamo riusciti a portare a casa dei punti e quindi vale doppio appunto per questo. Dicevamo una squadra da battere quella di domenica scorsa, anche perché insomma ha ricalcato un po' quello che ha fatto il Valpolicella nelle stagioni passate e adesso c'è un campionato che vi aspetta, che è sempre più insidioso, ma non siete voi gli ultimi e siete invece quelli che devono comunque dimostrare di meritare questa categoria. Abbiamo trovato una squadra molto attrezzata, soprattutto nel pacchetto di mischia. Il nostro giocatore, uno dei nostri giocatori più grossi, più potenti, era un po' piccolo rispetto a due giocatori loro. Per cui questo sta a significare che la potenza fisica nel pacchetto di mischia ci ha creato qualche problema. Nonostante la potenza del pacchetto di mischia loro, il Valpolicella attraverso la sua maggiore tecnica è riuscito spesso a portare fuori la palla verso la linea veloce e a creare grosse difficoltà alla squadra avversaria. Parlavi di tecnica, parlavi di un linguaggio tipicamente rugbyista. Spiegaci un po' che cos'è questa tush. La tush è una delle fasi statiche della partita che si innesca quando il pallone esce sulla linea laterale di campo. I due pacchetti di mischia si mettono in linea parallela e c'è un lanciatore che è il tallonatore che lancia la palla e i due pacchetti devono conquistare la palla. Chi lancia ovviamente ha il vantaggio del tempo. Questa è una fase dalla quale partono poi le azioni di attacco, quindi chi vince questa fase ha la possibilità di ripartire con un gioco veloce e quindi innescare i vari schemi di gioco. Il presidente Sergio Ruzzanente non vuole che noi facciamo classifiche ma ancora di più non vuole che facciamo pagelle. Ma visto che non c'è stamattina mi piacerebbe che tu dicessi uno o tre nomi dei giocatori che ieri ti hanno colpito favorevolmente. Direi un elogio a tutto il pacchetto di mischia perché nonostante avesse trovato dei giocatori molto attrezzati fisicamente dall'altra parte è riuscito con la tecnica a rubare molti palloni. e poi io ecco una parola di elogio e anche di stimolo per il nostro capitano in campo Pivetta che è rientrato dopo 7-8 mesi dall'infortunio ed infine secondo me il man of the match nonostante fosse la prima partita dopo una settimana dall'arrivo dall'Uruguay va all'estremo Geronimo e Cevary che tra l'altro ha fatto 13 punti sui 18 di tutta la partita. Tra l'altro ci scusiamo anche con Cevary perché lo scorso anno abbiamo sbagliato la sua nazionalità sono stata io. Io vorrei fare anche il quarto nome se voi mi consentite che è naturalmente il nostro coach Zanella, uomo di poche parole che però quando è in campo si fa ben sentire dei suoi ragazzi. Detto questo il presidente che era in macchina con te mi sembrava felice quando mi avete chiamato. Sì ovviamente felice perché il risultato è stato in bilico per tutta la durata dell'incontro. Noi pensavamo di vincere in due o tre occasioni poi alla fine abbiamo temuto perché negli ultimi cinque minuti eravamo sotto di 4-5 punti adesso non ricordo. Poi finalmente è arrivata la conclusione di un'azione di forza del Valpolicella e anche di tecnica squisita direi è arrivata la meta di Cevary. Sembrava quasi che le cose facili appartenessero un po' al Valpolicella invece sappiamo che dove c'è realtà e coraggio i vostri ragazzi e i nostri ragazzi ci sono e quindi avete temuto ma poi alla fine il vostro motto vi ha accompagnato per tutta questa domenica. Direi ovviamente il nostro motto impegno coraggio passione deve esprimersi tutte le domeniche sul campo oltre che durante la settimana durante la preparazione. I nostri ragazzi a mio avviso sono ben consapevoli di questo e l'abbiamo dimostrato anche domenica per cui abbiamo creduto alla nostra capacità e alla nostra forza fino alla fine e quindi abbiamo vinto meritatamente. Siamo stati bravi, abbiamo meritato questa vittoria e quindi darei un 8 a tutta la squadra. È stata una partita molto combattuta quindi si doveva giocare sul filo del fuorigioco, sui dettagli, su tutti i particolari che ti fanno vincere la partita. Abbiamo sofferto ultimamente queste tre partite e stiamo cercando di capire il perché abbiamo un calo a metà partita. Lo stiamo risolvendo, probabilmente è un problema solo caratteriale, non un problema tecnico e quindi è assolutamente risolvibile. Il Valpolicella è una squadra che gioca, gli piace giocare e giocherà sempre palloni veloci. L'indole della squadra è questa, palloni veloci, giocare fuori, tre quarti che si muovono molto bene e la misca che cerca di dare palloni buoni, di qualità e con la linea di tre quarti che abbiamo riusciamo sempre a giocare bene. Grazie a Tubini Giovanni, il preparatore atletico che ci rende dinamici per il campo, per noi non è un problema, anzi è solo un divertimento. Si vedranno i risultati anche in casa, sicuramente dalla prossima partita, anche grazie al tifo che ci segue sempre numeroso e che ci incita ogni domenica. E dopo il vicepresidente Giordano Massalungo siamo qui invece con Alessandro Cecchino, un dirigente e un consigliere che si occupa della promozione del settore giovanile del Valpolicella a rugby. Io mi occupo del settore propaganda che comprende l'attività del mini rugby che va dalle categorie Under 6 all'Under 14. Ho iniziato quest'anno, abbiamo portato alcune modifiche anche tecniche nel senso che abbiamo inserito dei preparatori atletici sull'Under 12 e Under 14 che l'anno scorso non c'erano. Sul mini rugby c'è una ragazza che fa psicomotricità per aiutare i movimenti e quindi sviluppare anche lì la parte tecnica. Come tu sai per la televisione, per i ragazzi, per i genitori interessano i numeri e so che interessano anche al presidente Sergio Ruzzenente. Quest'estate ho visto i bambini, tanti, bambini e bambine, ho visto gli allenatori, i preparatori, ho visto i coach che venivano da molte parti del Veneto, questo perché anche da voi come molti sport conta la preparazione. Confermo quello che hai detto Alessandra, i numeri scegliono la tendenza nazionale, basti pensare che a livello FIR dal 2008 al 2010 siamo passati da 40.000 a 75.000 tesserati. Anche il Valpolicella è cresciuto, l'anno scorso eravamo 80 in 80 bambini, quest'anno siamo quasi un centinaio sulle quattro categorie. Considerando anche l'Under 6 che sono bambini che hanno meno di sei anni e sono circa una decina. E adesso per la nostra trasmissione per terzo tempo è il caso anche di ricordare i genitori tutte le feste che abbiamo fatto in questa lunghissima estate, quasi come se quest'autunno non fosse mai iniziato. Anche i ragazzini del Mini Rebby come caratteristiche fondamentali di questo sport hanno il terzo tempo. viene fatto alla fine di ogni partita che si fa con le altre squadre ma anche alla fine di ogni allenamento del sabato in particolare dove sono presenti anche le famiglie. È un momento molto conviviale di scambio, di saluti e si si diverte tutti quanti. Allora Vicepresidente, dopo aver sentito che cos'è veramente questo terzo tempo che caratterizza il nome della nostra trasmissione, come ci ha spiegato Alessandro, è arrivato il momento di saluti ma soprattutto è arrivato il momento di invitare il pubblico che ci segue e che ci può seguire anche su Facebook alle partite che ci saranno la prossima settimana. Domenica prossima abbiamo due grandi appuntamenti allo Sporting Club, al campo dello Sporting Club alla Spianà con la mattina una delle due nostre Under 11. Il pomeriggio ci sarà il derby della Serie C tra il Valpolicella e la Scaligera Rugby di Verona. Mentre alle 15.30 al campo di San Pietro Incariano ci sarà un match molto importante per la prima squadra nostra contro il Paese di Treviso. Una squadra molto attrezzata che ci dicono si è rinforzata parecchio quest'anno e quindi sarà un impegno ancora una volta molto impegnativo per i nostri ragazzi. Vi invitiamo tutti al campo quindi sia alle 14.30 per chi vuole vedere la Serie C che è alle 15.30 a San Pietro Incariano per la Serie A. Un'altra domenica di rugby naturalmente, noi lo seguiremo con Terzo Tempo. L'appuntamento è per la settimana prossima. Grazie per essere stati con noi e buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti e a presto. Se pensi ad un piano cucina nel tuo colore preferito, se lo pensi senza aloni, tagli e graffi, facile da pulire e resistente alle macchie, stai pensando a Santa Margherita. Piani per cucine e per bagni in agglomerato di quarzo. Piani per cucina e per bagni in agglomerato di quarzo.